vi presenta questa grande opportunità si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile contiene gradevole e confortevole soggiorno per la vostra famiglia cucina ben arredata che vanta elettrodomestici di prima qualità camere da letto di buona misura con ampio spazio questa proprietà è veramente rimarchevole chiamate ora per fissare un appuntamento